A un certo punto, mentre ero in sala, mi sono chiesta se stavo guardando il film giusto, perché il film tratto dal libro di Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri, è completamente diverso dal romanzo, o meglio, la struttura è la stessa, però ci sono tante differenze. Ed è anche normale ed è plausibile, perché è difficile riportare sullo schermo, quindi trasformare in immagini un romanzo. Quindi il mio primo consiglio è quello di non guardare il film cercando di ricordarvi il libro, quindi dimenticatevi del libro. Ci sono dei personaggi in più in questo film, Per esempio, la stessa Arianna ha caratteristiche diverse rispetto al libro. Arianna è molto impegnata socialmente, il che stona un po' considerato che Arianna è una ragazzina di 12 anni, quindi mi sembra esagerato tutto questo impegno. Però penso che il film affronti tematiche, anche se trasversalmente importanti, e che ci riguardano da vicino, come la tutela dell'ambiente lo fa trasversalmente, ripeto, perché Arianna si batte appunto per l'ambiente, si batte per il tema che poi è l'asse portante del film, della disabilità, e quindi delle pari opportunità. Poi c'è il personaggio molto simpatico, secondo me, della zia Rock. È una donna sui generis, è un personaggio un po' alternativo in questo film che per me è gradevole. È un film che consiglio ai genitori e che consiglio ai ragazzi dai 12 anni in poi, perché ci insegna tanto. Non affronta il problema della disabilità a 360 gradi, quindi in maniera totale, ma descrive come il protagonista, o meglio il coprotagonista, Jack Mazzariol, vive la disabilità del fratello, Joe, che è down. Avevo perso le speranze, ma arrivò il giorno del grande esame. Mio padre diceva che se Joe avesse passato il test, saremmo diventati ricchi. Sono questi problemi, Lisa, meglio di noi, quale difficoltà una famiglia può attraversare in questi casi. Tante. Giovanni, quanti anni hai? Io temevo di essermi fatto un viaggio. E invece accadde qualcosa di magico quel giorno. Bravissimo! Sì. Allora. Guarda. Tu sei maschio o femmina? Maschio. Benissimo! Sì! Bravo! È sicuramente un gesto casuale, dottore. Vero, Jack? No, no! Ah, ecco. Bene. Giovanni. Per piacere. Guarda, eh? Punto rosso. E un altro puntino rosso. Tu riesci a unire i due puntini? Eh? Puoi farcela? Puoi farcela? Tieni. Era la prova definitiva. Un supereroe. Dai. Quando serve. Non sbaglia mai. Sì! Bravo! Sì! No, dottore, guardi. Giuro, non lo fa mai a casa. Lui li lancia i pennarelli. Anche piatti, picchieri, qualunque cosa, lancia, qualunque cosa. State facendo un ottimo lavoro. Sì, eh? Il ritardo c'è, ma ha buona autonomia. Non serve nessun sussidio. Complimenti. Grazie. Grazie. Buona giornata. Bravo, Joe. Continua così. Siete contenti? Siamo contenti? Sì. Sì, senti, prendi lui. Sì. Bene, amore. Ecco, anche l'assegno di invalidità ce lo siamo giocato. Bene. A un certo punto, dopo averlo considerato un supereroe, comincia a ritenerlo un po' un peso e quindi nasconde ai suoi amici, ai suoi nuovi amici, la presenza del fratello. Dice che il fratello è morto. Il film ci insegna che dietro ogni azione ci sono delle sensazioni, dei sentimenti molto profondi come quella appunto della vergogna, ma non solo, anche della paura, della perdita, della perdita delle persone care. E quindi giudicare, come faranno poi anche alcuni personaggi, come per esempio la stessa Arianna, è fin troppo semplice. Ci dice che però non dobbiamo avere vergogna della disabilità, perché nella disabilità possiamo trovare delle perle, possiamo trovare qualcosa di diverso, di alternativo, che nelle persone, tra virgolette, ripeto, tra virgolette comuni non troviamo. Quindi è un film che davvero ci insegna molto. È un film che è ambientato in un contesto non ben definito. Siamo in una città del nord Italia. Il regista Stefano Gipani con la sua macchina da presa ci porta per le strade di questa cittadina e ci sembra di essere quasi in un'altra epoca, o meglio, in un'epoca non definita. È un film che richiama la commedia americana. I genitori, interpretati da Alessandro Gasman e Isabella Ragonese, fanno un pochino da contorno. Ma è normale perché la storia è quella di Joe e quella di Jack, due fratelli apparentemente diversi, ma accomunati dall'amore, accomunati dalla fratellanza, accomunati da quel sentimento che poi nasce quando davvero vogliamo bene all'altra persona. e andatelo a vedere Mio fratello rincorre i dinosauri. Vi lascio il link del libro se volete dargli un'occhiata e a presto. A presto. A presto. A presto. A presto.